Salve a tutti, benvenuti ad una nuova puntata di Red Dead Redemption 2 in compagnia del nostro Arthur Morgan e della sua banda. Continuiamo la nostra storia nel West. Nella scorsa puntata avevamo portato il piccolo Jack, il figlio di John Marston e Abigail a pescare, qui abbiamo fatto un incontro con dei federali i quali venuti a conoscenza dell'assalto al primo treno appartenente alla compagnia ferroviaria e sapevano dove eravamo e ci avevano chiesto di consegnargli i dac per poter essere lasciati liberi e far decadere la taglia che c'era nei nostri confronti. Avevamo inoltre assaltato il treno in compagnia di John Marston e Sean. Avevamo fatto un po' di bottino rapinando i passeggeri del treno stesso e con questi soldi andremo a pagare la nostra taglia che è ancora di 300 dollari. Vi ricordo come sempre di iscrivervi ai canali social per rimanere aggiornati sulle produzioni nel canale. Eccoci quindi al nostro accampamento, compagnia del nostro John, il nostro Arthur, scusate. Siamo a Horse e Shea, Overlock. Vediamo cosa ci tocca fare oggi. Allora abbiamo John Marston che ci chiede di voler essere incontrato a Valentine. Mika che vuole un incontro nell'accampamento e nei prezzi di Stasberry. Nel frattempo abbiamo sempre la taglia di 300 dollari a Stasberry. una taglia di 50 nel Lemoy. Insomma, siamo messi bene. Allora, idea quindi di recarci a Valentine, andare a parlare con John. Quindi andiamo a trovare la nostra Piper. Dove l'abbiamo lasciata. Eccola qua. Bella strigliatina. Ok, girl. Ok, girl. Ok, andiamo. Questa. No No Io direi di andare a pagare la taglia Che ci siamo Guarda che qua c'è E un attimo Ah qua c'è il posto Va bene Il prossimo cavallo che compreremo sarà Questo di qua Che mi piace particolarmente Che compreremo Che cercheremo di Di addomesticare Quindi lo prenderemo magari selvaggio Vediamo se poi ci riusciamo Ok Andiamo a pagare le nostre belle taglie Nella stazione Sì ci possiamo Muovere liberamente Allora paghiamo le taglie Bene bene Paghiamo 300 Nell'West Elizabeth E 50 Nell'Emoine Paghiamo tutto Ok Siamo alleggeriti Il portafoglio E l'Emoine E l'Emoine E l'Emoine Ok Andiamo a vedere dove è John Ok Che dovrebbe essere da queste parti Eccolo Eccolo là So Eccolo 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 There's a hitching post Over there Tether the horse And I'll meet you Across the street Yeah I already don't like how this is going Yeah Buongiorno, amore. Oh, ok. Con le buone maniere si ottiene tutto. Bastano due parole, quindi sfogliamo il nostro catalogo, mettiamo nei fucili a canna rigata. Ok. Prendiamo questo, perfetto. Va bene così, non abbiamo soldi per pagare eventuali modifiche. Ok. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. 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 Quindi credo che il figlio sarà arrivato alla fine, ma un paio di nuove randos saranno colpiti sulla vendita. Credo che la città non vuole capire troppo. Perché bisogna questa riflessione che non puoi comprare te stesso? Credo che non dovessi arrivare troppo vicino, almeno non vediamo cosa stiamo parlando. Vediamo cosa possiamo vedere da qui. Ecco in attenanza i mandriani e le pecore. Anche le pecore. Guardate le pecore. Credo che uno di loro non fa molto semplice. Prendete un po' vicino. Ci sarà il messaggio. Ok, andiamo a radunare le pecore. Vediamo dove possiamo scendere. Allora, dobbiamo trovare un posto dove scendere senza spezzarci le cosce. Vediamo. 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 Dai che fa? Questo si potrebbe fare. Non lo so. Piano. No, cavolo. Non si può. E devo trovare la strada. Un attimino. Di pazienza. Ok Ho intenzione di fare Assopare la nostra La nostra Piper No no, altra Ce n'è una Di qua La pietra, la peccola Si vai Ahia Abbiamo trovato una peccola Ok 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 Dove stanno andando? Forza, di qua Ma non Sempre piccole sono Ok 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 Lo Ok 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 Sì, sì, sì. Come on! Dai! Guarda, se te pego ti dai in faccia che ti dai in mezzo alle frasche! Mi si spararcene a qualcuna! Guardate! 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 and swim give it a rest will you we ain't kids no more No, non ero mai davvero. Non credo in assolutamente, solo le scelte di gravi. Compromissi. Compromissi? Beh, non ho mai pensato di compromissi, ma io credo che a mia agee sono troppo vecchio per cambiare. Ci vediamo qualcosa. No. Andiamo di attento a parlare con Dutch e Strauss. Me and Paul, dove sei stato? Working. Marston Stein. Buono. E? Stiamo aspettando per ottenere un po' di pagina. Um, a few sheep. Leopold, mio amico, as long as you're here, why don't you and John go make sure there ain't no funny business? Of course. Gentleman. Drink? Sure. Nothing like talking to old Strauss to make you want to blow your own brains out. I should have left him where I found him all those years ago. Bookish little Austrian. Fresh off the boat, his eyes out on stalks. Well, I guess the Dutch Vanderland finishing school has some strange graduates. That it does. To your good health. Thank you. Vanderland! Get out here! Hey, c'è aria di guaio. Now! Vanderland! You don't know me, but you keep robbing me! My name is Leviticus Cornwall, il proprietario della... del treno che hanno assaltato all'inizio. Get out here! Before I have these men killed! What do you think? Get out here, you depraved piece of trash! You start spinnin' the yarn, and when I think the moment's right, I'll make a move. You think I got where I am by lettin' scumlock you rob from me! Vanderland! You're done! Now get out here now! Deal with this nonsense! Please, gentlemen, this is a terrible mistake. This is a case of mistaken identity. What is worse than admonishing a man for the sins of another who wants to be the messiah? I'm fed up. Come on. Come on! Come on! Come on! Come on! Sì! Aspistraus! Oh no! Aspistraus! Arthur! Covera! Arthur! I'm trying! Arthur! I'm behind the wagon aspistraus Arthur! You can use it as cover! What the hell are you doing? Get out of here! Arthur! 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 Olf! Tutta la città, ce l'ha tutta con noi? But you've allowed me to kill these mandats! Merda, merda! We are just gonna walk out of here! Perchè? Cavolo Sparano! Ma non il macello! Stanno dappertutto! Cavolo, curati! Aia, siamo morti! Siamo morti! Ci sono i nostri cavi qui! Vieni, prendi Strauss! Aspettiamo, prendiamo Strauss un attimo! Qua un macello! Dai, Strauss! Via! Vieni, via! Vieni, via! Vieni, via! Vieni, via! Poi, prendiamo Strauss! Dai! Guardiamo Strauss! Stai sicuro che nessuno ci stia seguendo! Siamo tornando al campione! Siamo scegliere le truppe e li proviamo a iniziare a pagare! Sì, non possiamo stare attacchiare dopo questo! Vieni, via! Merda, merda! Situazione si fa ancora! Facciamo fuori questi! Tanto ormai! Dai, Piper! Che è qua! La situazione è calda! Molto calda! Piombo rovente a Valentine! Cerchiamo di... Far perdere le nostre tracce! ... 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 Ok, ritorniamo all'accampamento. Andiamo a parlare con Dutch. Facciamo ripostare la nostra Piper. 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 Ciao. Ciao.